Il 22, 23 e 24 febbraio si svolgerà a Bologna il congresso internazionale CIES di medicina e chirurgia estetica. Ritengo che sia uno dei più importanti congressi di medicina estetica che si svolge in Italia e in Europa e quindi spero che vi sia una grande affluenza. Uno dei main focus di questo congresso sarà appunto la medicina rigenerativa che è la grande frontiera nel campo del ringiovanimento mini-invasivo utilizzando cellule staminali mesenchimali di origine adiposa. Per quanto riguarda la medicina rigenerativa parlerò e farò workshop riguardo il kit Seffiller per la medicina rigenerativa e parleremo anche del kit Seffikit per la chirurgia estetica rigenerativa. Questi kit hanno la grande forza di facilitare la procedura e di essere kit monouso e all-in-one e quindi permettono al medico estetico anche senza alcuna competenza chirurgica nel prelievo del tessuto di fare tutta la procedura dal prelievo all'impianto utilizzando un unico kit che permette tutto questo trattamento. Vi aspetto numerosi al congresso Sies dove potrete seguire i miei workshop e le mie relazioni su appunto la medicina rigenerativa utilizzando le cellule staminali di origine adiposa che sono veramente la nuova frontiera e la nuova era nella medicina rigenerativa estetica.